Siamo con Mauro Fontana, allenatore della Pro Savigliano. Mister, quest'estate tu hai accettato questa chiamata per questo nuovo incarico. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a venire qui, su questa panchina? Sicuramente il progetto della Pro Savigliano, la struttura, le persone. Penso che qui ci siano le condizioni per poter lavorare al meglio. Ecco, innanzitutto, alle tue spalle, ma siamo già sul Prato Verde, c'è questo stadio, che è un glorioso stadio della provincia di Cuneo, ma poi conosciuto come l'Ottavio Morino. Ecco, il fatto di poter poi giocare su questo campo, il fatto che comunque ricalcare questo campo, che emozione è? Sicuramente è un'emozione importante, proprio in questo progetto c'è anche l'ambizione di poter riportare Savigliano ai fasti di un tempo. Io penso che sia una città a cui la prima categoria sia sicuramente stretta e speriamo, insomma, in questi anni di riuscire in questo progetto ambizioso. C'è la struttura, ci sono le persone, c'è una città importante, uno stadio importante, speriamo di poter essere all'altezza. Facendo un passo indietro, poi ritorniamo a parlare di pro Savigliano, tu sei reduce dall'esperienza con il Marene, ecco, che percorso è stato quello con il Marene? È stato un percorso interessante, motivante, sia dal punto di vista personale che come allenatore. Ho trovato un gruppo di giocatori importanti, seri, una buona società e quindi ringrazio anche il Marene per l'opportunità dello scorso anno. Siamo arrivati anche a un passo, eravamo nei play-off, poi purtroppo motivi più importanti ci hanno fermato. Ecco, ci rispostiamo di qualche chilometro, torniamo qui a Savigliano, ovviamente, insomma, con un sorriso. Ecco, siete al lavoro dal 24 di agosto, come sono stati questi primi giorni di allenamento a contatto con la squadra? Ho trovato una squadra che mi ha dato da subito grande disponibilità, degli uomini seri, con un'ottima attitudine al lavoro, una società fatta di persone che da subito anche mi hanno dato la loro disponibilità e diciamo che è stato un ottimo inizio. Ecco, qual è l'obiettivo per questa Pro Savigliani in questo campionato 2021? L'obiettivo è quello di far bene, di far bene e di riuscire ad arrivare più in alto, in alto possibile, insomma, vedremo. Che campionato di prima categoria sarà, Mauro? Penso tosto, perché credo che siano un po' di anni che non c'era un campionato di prima categoria così importante, è quasi una promozione mascherata, ci sono tanti giocatori che sono venuti da categorie superiori, quindi penso che, infatti, la prima cosa che ho chiesto parlando alla squadra è che dobbiamo sicuramente alzare l'asticella e il lavoro di tutti perché sarà, sperando di star tutti bene, che vada tutto bene, che possiamo fare il campionato regolarmente, penso che sarà un bel campionato, molto difficile e tosto. Allora, a lungo questi mesi estivi vi abbiamo seguito passo passo, abbiamo fatto uscire tutti i vostri annunci, tutti i vostri colpi di mercato, che rosa hai a disposizione, mister? Una rosa equilibrata, direi, dove abbiamo mantenuto tutta l'ossatura della squadra precedente, abbiamo fatto degli innesti mirati, questi innesti si sono integrati, direi, già in dieci giorni, si sono già integrati con il resto della squadra e penso che abbiamo fatto anche degli innesti di giocatori funzionali ed efficaci a questo gruppo che era già un gruppo importante prima. Poi chiudiamo, lo chiedo in tutte queste interviste, di questi raduni, di questo riiniziare il pallone, com'è stato riabbracciare la palla, riabbracciare gli allenamenti dopo tanti mesi di inattività? Questo è stato molto bello da tutti i punti di vista, riuscire di nuovo entrare in uno spogliatoio, di nuovo giocare una partita ed è la prima cosa che ho detto anche ai ragazzi sabato scorso, la prima cosa che ho detto siamo di nuovo qua, divertiamoci.